Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella in lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione All over right now Attention all units, civilians reporting on 983, suspect in possession of prohibited chemicals, code 3 proceed with caution All over right now All over right now This is bullshit Dispatch, we have the suspect in sight Suspect northbound here, um, up front of Blomper Ranch Oh shit 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.